buongiorno a tutti Emanuele Santi perché mi candido in rete motivo molto semplice perché in questi anni assieme rete ho fatto delle battaglie abbiamo fatto delle battaglie a difesa del nostro paese perché il nostro paese è stato sotto attacco di un gruppo criminale che ha cercato di infiltrare e ci è riuscito le nostre istituzioni e ha cercato di minare in maniera irreparabile economia e finanze io credo che questo paese abbia tutte le carte regole per ripartire ma è necessario voltare pagina lasciarsi alle spalle questo brutto periodo a questo paese tutte le carte regole per ripartire quindi il mio vuole essere un messaggio di speranza però per fare questo l'8 di dicembre bisogna cambiare gli attori protagonisti pertanto l'8 dicembre aiutaci a fare rete